anche io lì cazzo poi c'ho la sensibilità a 25 pratica che c'è muo il mouse un millimetro mi fa ragazzi alcuni nostri fan si sono lamentati perchè tirò troppe poche bestemmie ah pasco non va bene io ho spiegato che se bestemmie troppo ci devono il video da youtube ci vengono da attuare a casa e ci vedono che hanno detto pasco chi loro i loro ah coloro che sono quelli si eh no hanno detto che non va bene si sono davvero bene ok c'è un mp5 ragazzi oddio tragi stragi ma muori andiamo nel nether ok perfetto oddio ma a quanti minuti siamo che non lo so se no se tu che ne so io sto giocando e non posso guardare oh cavolo c'ho un colpo nel caricatore io adesso sparo un piccolo ruttino una piccolo ruttino rpd vieni da paperino dai si da paperino da paperino rt questa è rt 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 sensibilità 1 8 dai morto ma perchè poi su pc non c'è 8 te scegli oddio che è stato te scegli proprio che tipo un indicatore duro azzio la bassa si chiama fob no non è il fob, è un'altra cosa ok adesso fob è quello di Minecraft ho detto una cazzata raga vado a piangere in bani un secondo basco basco oddio oddio stavo morendo senza di me sei morendo quindi ritorno per te si si ritorna basco for you for you for humans allora io sto cercando di riuscire a raggiungere una quota di 3 pezzi di ferro eeeh misto oddio sta prendendo fuoco cosa basco chi è che sta prendendo fuoco basco e film sto guardando oddio nightmare lo hai artigli lunghi che ti che fa quelle cose brutte che non vanno dire nessuno no basco si si ma qui ci sono un bordello di zombie anzi ora un po' le ho ammazzati però come il colt mi dai una mano basco mi dai una mano arrivi da ammazzare di zombie basco arrivo 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 forse proprio eccomi dai se no cazzo meno male che ho fatto un mega salto tipo 300 metri di salto ma io non so neanche com'è lo zombie in code 5 lo zombo lo zombo lo zombo si lo zombo lo zombo lo zombo cao praticamente non lo metto dentro la playstation non mandava più cioè tipo mi si vedeva una cosa nera po' cazzo non so perchè vabbè guarda il cazzo 4 è il più bello e allora l'ho portato indietro al media world ma non so se si può dire meno no 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 adesso ci vediamo il video è finita ci vediamo il video vado a puntare con questa ultima parola ooo non scompari ma fanno ora sono nella merda un video però perchè ognuno di noi cioè ve lo dico così se voi volete commentare e dire se non ho un'idea praticamente perchè ognuno di noi non fa un video e spiega cioè c'è un trigger commenta e il live sempre eh però ognuno di noi spiega come iniziate a giocare a come mmm perchè no si bello a me mi piacerebbe ma stiamo per i riframi si si certo questo registro probabilmente lo divederò in varie parti questo video che è un finale che è un finale con finita fa non c'è un'ottima idea se non lo volete fare va fuori va fuori poi volevo salutare Rebecca vita 47 ma chi è tutta sta gente qua ma chi è tutta sta gente qua è dato io sono sono un VIP su oddio oddio che bello che figlio omasco lo sai con che arma sto giocando ora m4 sta giocando con m41 no no qua proprio si chiama m4 allora sono quasi oddio che è insatto guarda prendo il cecchino no penso orecchie su codici in quale mi sembrano visto un video con posti spina oma sono quelli di code 4 allo posto e quello lì quello come si le m41 di ote 4 si può la chi è quello che usano tutti per fare l'equipe insomma si quello si è bello ho provato il posto però 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 a zombie ci fai le novanten supple washotte capito novanten supple washotte si si guarda cazzo che cazzo è pasco non fa male non sono io una mia sono di la porta è finita no vabbè presentiamo anche il padre di gabriel dai vieni vabbè signor oddio sono morto vabbè dai finiamo qui il video e quindi vi saluto ci vediamo al prossimo video pasco ragazzi bella 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 bella